Massimo Bitonci, perché la Lega Nord chiede di pagare il pedaggio alla Salerno-Reggio Calabria? Non vedo perché devono pagare il pedaggio solamente i cittadini del Nord, perché oramai si paga solamente nelle autostrade del Nord Italia. Questo è un paese a due velocità, però è giusto che sia attorno a Roma sia sulla Salerno-Reggio Calabria si paghino i pedaggi come succede in tutto il resto del paese. Questa è un'Italia che oltre ad avere due velocità è un'Italia che ha due pesi di misura. Questo è uno degli emendamenti che la Lega Nord ha presentato a questo disegno di leggi sulla stabilità? Questo è uno dei tanti emendamenti, insieme a quelli di carattere fiscale, insieme a quelli per i comuni sul patto di stabilità, insieme a quelli sul taglio delle tasse per le nostre infrese e le nostre famiglie. Uno dei tanti emendamenti che tende a fare giustizia sociale, anche questo con le tariffe e i pedaggi da pagare sull'autostrade del Sud è uno di quelli tentativi, mediante il Parlamento e quindi il sistema parlamentare, di fare giustizia.